Se il dito costa 65 euro, quello lì costa 50 euro. Qual è la proposticia del volo? Le macchine, ma anche 60.000 euro. Poi io non faccio mica l'NCC, perché ho bisogno di essere tutto perfetto. Io ho il bed and breakfast con Don. Se ci chiedono di andare da qualche parte, così ci posso mettere. C'è il mezzo per il fatto. Capito? Certo. Ora quello lo fa per lavoro, per l'amor del cielo. E' l'altro discorso. E' l'altro discorso. Anche che poi ti ammortizza, scarica. Ammortizzi, ci prendi leasing sopra, fai tutte le storie lì. Se ci fai più lavoro in quella maniera, ci lo puoi spendere. Se no, avanti di lì aver preso 60.000 euro di qualche tour perché vogliono andare a Pisa o... No, ci lavori parecchio. Sì, per fare per lavoro. Il problema è che Carlo Villa11 ci vuole la licenza. No, la licenza. Anche via la posta. Quindi è facile. Anche la verità l'avevo trovata, ma poi ho detto di no. 50.000 euro. La licenza? Certo. Tanta roba. Anche lì... O ti ci metti veramente a farlo quel lavoro lì. Che non è male. No, l'amor del cielo. C'è un lavoro. Però... O fai l'NCC o fai la guida. Però lo sai che... Io penso che una persona come te, che sarebbe... Lì, si... Lì, si... Lì, si... Lì, si... Fai... Di piccoli... Fai... Anche lì... Anche lì... Tanta sopra, eh? Sì, sì... No, però non piaccia. Solo con i negozi. Sì, sì... Questa è l'entranza. Questa non vuoca. Questa si possono vedere la differenza con l'uograzione. E il sole? Questa è la parte del giallo e il sole. Allie le ovocazioni che sono sui pio... Ci sono state da la gira... T'sichrante con i raggiunti, non vedo se si... Reggina... Capperts. Dicono... Capperts. Capperts, sì. e hanno le blanze di blanze Grazie. 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 And here we have another valley, with all the little villages, and Florence is behind the hills in front of us. So much greener than that. And I can't get this... I can't find this room. Nice one. 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 Nice could I be confused. Nice. Yeah. Magic... Ok. Yes. Yes. One dcs here. Three or her car in the blue clear. Again, aside the road. It's tough to not just a fewъ... nice again in the south. Sì 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 Sì